Si è chiuso presso il Tribunale di Trani il processo con rito abbreviato contro Pantaleo Daddato, accusato di omicidio colposo per la morte di Maria Dorotea Di Sia, di Policastro. È stato condannato a tre anni di carcere. Il giudice inoltre ha disposto il ritiro della patente di guida e l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Ci attendevamo una pena esemplare, utile anche per evitare le stragi sulle strade. Purtroppo non è stato così. A parlare è l'avvocato Michele Gagliano che in questo processo ha difeso la parte lesa, i genitori di Dorotea. Alla lettura della sentenza il padre e la madre della ragazza deceduta nell'incidente stradale sono caduti nello sconforto. Fino all'ultimo hanno sperato di ottenere dalla giustizia una condanna più pesante nei confronti di chi gli ha strappato per sempre la presenza della loro figlia. Purtroppo non è stato così. Dopo aver assistito all'udienza sono tornati a Policastro dove vivono con il cuore ancora più carico di dolore. La difesa confidava almeno in una condanna di quattro anni e mezzo compresa tra il minimo e il massimo della pena. Alla fine il giudice ha ritenuto opportuno di accogliere la richiesta del pubblico ministero ed ha disposto per daddato tre anni di carcere. Una sentenza che l'imputato potrebbe anche appellare per chiedere uno sconto di pena. La tragedia si consumò il 13 maggio del 2014. L'Audi sulla quale viaggiava Dorotea si schiantò contro un pilastro in costruzione in una villa di bisceglie. All'interno dell'auto c'era il fidanzato della 26enne e il cugino di quest'ultimo, Pantaleo Daddato, che era alla guida della macchina di grossa cilindrata. Gli esami eseguiti dopo l'incidente mortale attestarono che l'imputato era al volante ubriaco e drogato. Il processo è stato seguito con apprezzione non solo dai familiari della ragazza ma anche da tanti suoi amici che ancora oggi amano ricordarla con il suo raggiante sorriso e la sua vitalità che dalla scorsa estate manterranno in vita con manifestazioni alla sua memoria.